Creare una rete domestica? Basta poco, che ce vò? L'importante è conoscere la differenza tra LAN e Ethernet, sapere cos'è un IP dinamico e un IP statico da inserire nel router, eventualmente non fosse attivo, attivare il DHCP, ottenere il MAC address eventualmente utilizzando l'IP config, aprire modifica opzioni condivisione e saperlo usare, verificare che sia attivo pubblica sezione e risorse per individuazione. Nel protocollo IPv4 verificare che il client SMB 1.0 Chiefs e server SMB 1.0 Chiefs siano attivi. Vi ho fatto spaventare, eh? Vi è venuta la strizzetta, eh? Beh, diciamo che non è proprio uno degli argomenti più semplici in assoluto, però guardate, ve lo prometto, farò in modo che sia il più semplice possibile questo tutorial. Quindi mi perdonino i puristi, perché probabilmente dirò delle castronerie a chi sa bene, perché mirerò appunto a cercare di rendere il tutto più semplice, poi non so se ci riuscirò, io ci provo, me lo saprete dire voi. Innanzitutto ragazzi, proprio per evitare la paura, capiamo a cosa ci può servire una rete, una rete ci serve sicuramente per poter collegare più computer, due o più computer, ok? Come li colleghiamo questi computer? Ma soprattutto perché li dovremmo collegare? Per esempio io, diciamo, il vantaggio che utilizzo di più in assoluto è il fatto di poter trasferire una grossa mole di dati tra un computer e un altro. Capite bene che, sì, potreste farlo anche con un hard disk portatile, con una pendrive, ma comunque inserire l'hard disk nella porta USB del primo computer, copiare il tutto, riportare l'hard disk sul vostro computer sul quale avete bisogno di questi file, riattaccare l'hard disk e riscaricare tutto. Capite bene che è una serie di passaggi che, se è possibile evitarli, ben venga no? Giustamente ragazzi. Quindi questo diciamo è uno dei tanti vantaggi, un altro vantaggio per esempio è la condivisione, cioè una volta che la rete è abilitata si possono condividere tutte le cartelle, volendo posso condividere anche un intero hard disk, in modo tale che le modifiche che faccio sul computer che sto utilizzando vadano per esempio a influenzare e a influire sui file che ho sull'altro computer. Quindi capite bene che è una grossa comodità, per esempio, faccio del video montaggio, adesso vi dico una stupidaggine, ho bisogno di un video che sta sull'altro computer. Se io ho la condivisione di quella cartella dove è presente quel video, io posso direttamente aprire quel video e vederlo sul computer che sto utilizzando in questo momento, anche se il file sta su quest'altro computer. Ci siete ragazzi? Quindi è una comodità pazzesca. Considerate che fino a poco tempo fa, se non sbaglio fino alla versione 18.03 di Windows 10, era fattibile tutto questo con il Windows che praticamente si chiamava Gruppo Home, che purtroppo dalla 18.03 in poi è stato eliminato. Quindi adesso la rete bisogna gestirla in maniera leggermente diversa. Ci sono delle particolarità sul quale appunto bisogna fare un minimo di attenzione, perché sennò mi rendo conto che diventa una sorta di cubo di Rubik e proprio lasciate perdere. Quindi state tranquilli e procediamo passo passo. Vi ho detto perché così già vi si apre la mente, no? Perché dovrei collegarli? Per i motivi che vi ho appena detto. Cosa ci serve innanzitutto per collegare due computer? Innanzitutto in assoluto ci serve un router, cioè il famoso apparecchio che abbiamo per poterci collocare lì in internet, che poi questo sia DSL, ossia fibra, non cambia assolutamente a nulla, assolutamente. Vanno bene tutte e due i router, sia quello della DSL sia quello della fibra. Non ci sono problemi. Oltre a questo vi può servire o la linea wifi, se li collegate tramite il wifi, quindi il wireless per capirci, o tramite un cavo LAN detto anche RG45. Per farvi capire questo, guardate, passiamo di qua, che sicuramente è molto più chiaro. Guardate ragazzi, vedete questo che vi sto facendo adesso vedere con il modem? Questo è il famoso router. ve lo ingrandisco. Queste porte che vedrete dietro, che probabilmente saranno gialle anche nel vostro caso, queste sono, fate finta, porta 1, porta 2, porta 3 e porta 4. È assolutamente ininfluente il fatto che l'attacchiate alla porta 1, alla porta 2 o un cavo per esempio alla porta 1, un cavo alla porta 4, non dovete avere una sequenza. Dove lo attaccate? Lo attaccate, il cavo va comunque bene, viene in automatico riconosciuto direttamente dal router che provvederà, si dice in gergo, a switchare, cioè a capire quale delle porte è attivata, cioè quale di queste porte del router ha il cavo attaccato, ok? Nel caso, vedete, guardate, questi qua, ve li sto facendo vedere con il mouse, questi qua sono due cavi RG45, vedete, detti anche cavi Ethernet o cavo LAN, che praticamente vanno a collegarsi, vedete, qui c'è un Mac per esempio, un iMac, però possiamo utilizzare qualsiasi computer, anche un computer Windows, adesso l'immagine aveva questo qua, ma è assolutamente ininfluente anche in questo caso, quindi tramite questo cavo lui va a collegare a una delle porte e logicamente avrà l'altro capo collegato sulla scheda di rete di un computer, l'altro cavo si attaccherà a una qualsiasi delle porte e logicamente sarà connesso sull'altro capo alla porta di rete dell'altro computer, ok? Nel caso, lo capisco, abbiate per esempio i computer in stanze diverse, differenti, lontane e non vi sia possibile collegarli tramite cavo, logicamente il discorso si può fare tramite wifi, ok? Che vuol dire wifi? Vedete che qui c'è l'antenna col simbolo del wifi, questo notebook per esempio e quest'altro notebook che vedete uno sopra e uno sotto sono collegati tramite linea wifi, non cambia assolutamente nulla ragazzi, se voi in quel momento non avete il cavo di rete ma avete la connessione wifi attiva, la configurazione che andiamo a vedere la potete fare assolutamente nello stesso identico modo, ok? Questo è un concetto importante. L'ultima cosa da dire come premessa è una volta che abbiamo creato una rete ricordatevi, vi farò vedere gli eventuali errori e quindi cosa bisogna eventualmente cambiare nel caso non funzionasse, poi ragazzi provateci perché vi metterò in modo di gestirlo capendo il concetto, spero che ce la facciate e mi dareste una soddisfazione immensa quindi poi nei commenti fatemelo sapere. Ma una volta che avete creato una rete ricordatevi che non importa se voi avete tutti i windows 10 o per esempio dei computer con windows 10 e dei computer con windows 7, una volta che avete creato la rete si dovrebbe, uso il condizionale, poter utilizzare qualsiasi sistema operativo, fatti salvi i problemi del caso che mano a mano con un po' d'esperienza potete risolvere, però vi metto in condizione di capire quali potrebbero essere. Normalmente se il tutto viene fatto come si deve state pur tranquilli che potete utilizzare sia windows 10, 1803, 1903, 21h1 che è l'ultima, windows 7, non c'è assolutamente nessun problema. Ci saranno delle cose da andare a attivare che adesso vi farò vedere, però una volta che avete seguito il tutorial, avete fatto tutto quello che vi ho detto state pur tranquilli che il sistema di rete dovrebbe funzionare. L'informatica si mette sempre il condizionale, alla non si sa mai. La premessa ve l'ho fatta, procediamo oltre. Precisazioni, a proposito della premessa che vi ho fatto, l'immagine, avete visto che chi è stato attento l'ha notato, veniva fatto vedere un filtro ADSL, considerate che logicamente per quanto riguarda il modem, il router fibra, logicamente, anche se no si sarebbe chiamato filtro fibra, invece non c'è, ecco appunto, nel caso del router fibra, logicamente il filtro non va collegato, questo tanto per precisare la cosa, avete capito? Ma un'altra cosa invece volevo dire, abbiamo detto che possiamo creare una rete e collegarla con diversi sistemi operativi e tutto dovrebbe funzionare, usiamo sempre il condizionale, state tranquilli, vedrete che funzionerà, ma nel caso di Windows 7, qualcuno se lo porrà il problema, adesso vi farò vedere tutti i comandi e tutte le azioni che vanno eseguite per Windows 10. Quello che ribadisco è che vi voglio dare un concetto di come ragionare, di come lavorare per creare una rete, quindi su Windows 7 tutto al più avrete i comandi che forse in alcuni casi vengono chiamati leggermente in modo diverso, hanno un nome leggermente diverso, ma se capite il principio, e cercherò di farvelo capire, state tranquilli che forse li dovete trovare, questi comandi li troverete in un'altra posizione invece che in quella che vi indico Windows 10, magari con un nome leggermente diverso, ma alla fine se prendete il concetto non dovreste avere problemi, ok? Questa piccola premessina. Allora, considerate, torniamo alla sequenza quindi, che per fare una rete esistono diciamo almeno un paio di modi per strutturarla. Qual è il modo più semplice, quello che vi consiglio comunque di provare. Guardate cosa dobbiamo fare. Allora, innanzitutto passiamo qui a schermo e come vedete non c'è assolutamente nulla. Io voglio provare a vedere se mi dice fortuna e se nel modo che vi sto indicando, che è una sorta di sistema che si poteva utilizzare con gruppo home praticamente, normalmente vi posso assicurare che io la maggior parte delle volte, se vado di corsa utilizzo questo sistema e la cosa funziona. Vi dico subito e ve lo ripeterò, nel caso in cui con questo sistema le macchine non si vedano, innanzitutto spengete e riavviate la macchina. Vi faccio una cosa che vi farà ridere, dice ma che schermo, ma che è una barzelletta? No ragazzi, impostando questa cosa che vi faccio vedere, ci stanno dei giorni che accendo e rispengo i computer 100 volte, automaticamente quando riaccendo i computer si vedono tutti, ci stanno dei giorni ragazzi che in ordine alfabetico tirate giù tutte le parolacce, che voi potete accendere e rispendere 100 volte e i computer non c'è verso che si vedano. Questo è un problema, tra virgolette, una sorta di difetto chiamiamolo, che io ho letto dovunque ma nessuno ha una risposta, quindi dovrà venire da Microsoft, che probabilmente se non fatta, nel modo che poi vedremo in seguito, la rete può avere queste, chiamiamole incertizie, ok? Però vi consiglio comunque di provarla perché vi fa capire intanto il concetto di come andremo a strutturare tutto il resto, quindi questa è una premessa che comunque vi devo fare. Allora guardate, cosa dobbiamo fare innanzitutto? Per prima cosa ci dobbiamo portare, voi adesso non lo vedete perché io ce l'ho sull'altro monitor, ma sto andando col mouse sull'icona della rete, che se avete il wireless avrete il famoso puntino con le onde superiori, o se avrete praticamente il router collegato con il cavo, avrete il simbolo del computerino, ok? Più chiaro di così. Vi posizionate sopra quell'icona, con il destro cliccate su apri impostazione di rete e internet, poi cercherò magari di darvi un'immagine, e vi si aprirà questa bella finestrina qua, che ormai presumo che già conosciate bene, ok? A questo punto dobbiamo andare su centro connessioni di rete e condivisione, questo ragazzi, vedete? Centro connessioni di rete e condivisione, sta qua. Ci clicchiamo e andremo a finire su questa schermata del pannello di controllo, a questo punto dobbiamo andare su modifica impostazioni di condivisioni avanzate, lo vedete? Eccolo qua, questa è la parola stessa che condivisione vi fa capire che entra in funzione una rete, giusto? Andiamo a modifica impostazioni di condivisioni avanzate, ci clicchiamo e entriamo in questa schermata, guardate, vi butto giù anche questa, la levo così, qui avete il pannello tutto bello pulito, lo vedete meglio. Allora, questa è, diciamo, la finestra principale, quello che vi servirà comunque, o in un modo o nell'altro, per creare una condivisione di rete, quindi la classica, come abbiamo detto, rete casalinga, ok? Andiamo su questa schermata, la prima cosa che dobbiamo andare a vedere, ve lo faccio, vedete, ve l'ho ingrandito, modifica l'opzione di condivisione per diversi profili di rete. La prima cosa da guardare è il privato, profilo corrente. Perché vi sto facendo vedere questo, ragazzi? Perché quando andrete a collegare internet c'è la possibilità che il vostro profilo sia o privato o pubblico. Considerate che la cosa importante è che deve essere privato, non pubblico, perché altrimenti nel caso del pubblico i vostri computer vengono nascosti, ok? Quindi, come facciamo a sapere come cambiare, modificare o dove trovare questo parametro? Semplicissimo, ragazzi. Semplicemente, leviamo lo zoom, ritorniamo sulla finestra che ho preventivamente riaperto, ok? Che è questa e vedete a questo punto, guardate, in questo punto qua, vedete che dove stavamo prima? Qui c'è scritto Ethernet, lo vedete? Eccolo qua, vedete? Stavamo su Stato, che è la finestra che abbiamo aperto poco fa. Sotto c'è il bottone Proprietà. Cliccate su Proprietà e automaticamente vi passa qua. In realtà ha fatto già da solo un doppio passaggio, perché la prima schermata che dovrebbe darvi è questa. Io in questo caso ho due schede di rete. Lui ha visto che una non è connessa, vedete che c'è scritto non connesso, quindi automaticamente è passato a quella connessa. Quindi probabilmente voi questa schermata non la vedrete neppure, a meno che non abbiate due schede di rete. Quindi nel caso ce l'abbiate, vi passerà qua, voi dovete andare a cercare quella dove è scritto connesso, oppure sapere se voi avete attaccato la scheda di rete 1 o la scheda di rete 2, ok? Quindi andate a verificare. Nel caso normale che abbiate una sola scheda di rete nel vostro computer, logicamente cliccherete o lui andrà direttamente su questa finestra qua. Eccola qua, rete e profilo di rete. Guardate un po', qual è la prima voce che andrete a notare? Appunto è pubblico o privato? Come vedete io ho selezionato già privato. Nel caso in cui abbiate pubblico e non deve essere, voi automaticamente andate a mettere il puntino su privato. Ok ragazzi? Questa è la cosa importantissima, altrimenti state pur sicuri che non vi funziona. Allora andiamo ad aprire la nostra bella finestra. La prima cosa che dobbiamo fare una volta che abbiamo verificato che il profilo sia privato è appunto andare a vedere queste opzioni. Questa opzione è molto semplice. La prima cosa che dobbiamo verificare è l'individuazione di rete. Cioè i computer devono essere individuati. Considerate che se è la prima volta che entrate nella rete, automaticamente in questo punto qua, guardate ragazzi, nel caso in cui andassimo ad aprire per esempio la classica icona gialla delle cartelle, in questo punto qua su in alto vi apparirà una sorta di finestrella gialla dove vi dice appunto che i computer non sono stati attivati per la rete e vi chiede se gli permettete di attivarli direttamente. Logicamente direte di sì. E automaticamente lui farà in modo che i computer collegati alla rete che voi avrete precedentemente collegato o in wifi o col cavo come vi ho fatto vedere vengano automaticamente predisposti. Non è che state già in rete, sono solo predisposti. Quindi una volta che questo è stato fatto vuol dire che potete entrare nella finestra che vi ho fatto vedere. Allora, quando siamo entrati qua in privato, che deve essere appunto il profilo corrente, l'individuazione di rete cosa fa? Dovete attivare il primo pallino attiva individuazione di rete, nel caso appunto non fosse già stato fatto come vi ho detto adesso nell'icona gialla delle cartelle, e attivare anche con il flag, come potete vedere, la configurazione automatica dei dispositivi connessi alla rete. Questo è molto utile perché nel caso abbiate appunto una stampante e vogliatela condividere tra i computer, questo punto deve essere fleggato, deve avere il visto, altrimenti la stampante non viene vista da tutti i computer collegati. Ok? Quindi attiva individuazione di rete e attiva la configurazione automatica. Passiamo sotto, condivisione file stampanti. Nel caso abbiate attivato attiva dispositivi, questo sarà attivo. Voi dovrete, nel caso lo vogliate, ma presumo che altrimenti non avreste fatto la rete, mettere il puntino su attiva condivisione file e stampanti, e non su disattiva condivisione file stampanti, a meno che non vogliate impedire la condivisione dei file e delle stampanti. È abbastanza logico, no? Ok. Passiamo sotto, c'è guest o pubblico, vedete io ho cliccato su questa freccina, quindi in questo, noi prima stavamo qua su privato, ok? Se io vado a richiudere, vedete qua su, vado a richiudere privato, dovrei passare a guest o pubblico, clicco e mi si apre questo. Questi devono essere, visto che non gestirete il discorso pubblico, ma privato, tutti e due, come vedete, disattivati. Vedete, disattiva e disattiva. Quindi questa è un'opzione che vi ho fatto vedere, ma potete saltare. Invece dovete andare su tutte le reti e se la condivisione a cartelle pubbliche è attiva, gli utenti delle reti possono accedere ai file di tali cartelle, giustamente. Quindi voi dovrete attivare la condivisione per consentire la lettura e la scrittura dei file delle cartelle a tutti gli utenti con accesso alla rete. Cartelle pubbliche intende non il pubblico che abbiamo visto prima, ma cartelle pubbliche nel senso condivise tra i vostri computer della vostra rete. Attenzione, qui per cartelle pubbliche, lo vedete, non si intende il pubblico di prima, cioè dove dicevo che addirittura i computer possono essere nascosti, no, ma solo i computer collegati nella vostra rete. Quindi questo va attivato. Flussi multimediali normalmente non si tocca perché riguarda appunto, vedete, il fatto di poter accedere alla musica, questa è una situazione che se non andiamo troppo oltre, ma non la utilizzerete normalmente. Poi, connessioni condivisione file. Questo assolutamente, guardate, ecco scendiamo un attimo così vi faccio vedere tutto l'ambaradana che è compreso. Allora, connessione condivisione file. Per potreggere le connessioni dobbiamo attivare una criptografia. Normalmente viene di default e usa la criptografia a 188 bit e voi questa dovete lasciare perché è la più sicura. Abilita condivisione per dispositivi che usano la criptografia a 40 o 56 bit sono dei casi eccezionali che normalmente non vi riguardano, quindi dovrete avere il pallino su usare le criptografie a 128 bit. Ho qui condivisione protetta da password. Vi dico subito che come vedete io ho disattiva condivisione protetta da password. Non ho voglia di mettere una password. Nel caso in cui, e ce ne sarà bisogno, dopo ve lo farò vedere, doveste mettere attiva condivisione protetta da password, l'importante è che sul vostro account, tipo quello che mettete la password quando si avvia Windows, lì ci sia il vostro account con una password, che è quella che vi richiederà i computer quando si dovranno collegare. Se voi metterete attiva condivisione protetta da password, sono stato abbastanza chiaro nel senso, attiva condivisione protetta da password, se mettete il puntino qua sopra, vedete? Se mettete il puntino qua sopra, allora bisogna che nel vostro account ci sia una password che è quella che dovrete digitare, ok? Quindi se voi nel vostro Windows entrate senza password, dovete rientrare nell'account e inserire una password. Quella la password che poi verrà chiesta per accedere tra un computer e l'altro. Credo che adesso ve l'ho detta forse leggermente meglio. Una volta che avete fatto questo dovrete fare salva modifiche che per il momento a me, aspettate che mi sposto se no non lo vedete, dovremo fare salva modifiche, per il momento a me è deselezionato, io in questo caso faccio annulla e usiamo il condizionale. Se vi dice fortuna, tutto dovrebbe funzionare. Io lo uso spessissimo, ma come vi ho detto, ci sono delle volte che non c'è, ragazzi, niente da fare, tanto i computer fra di loro non vengono visti. Magari uno lo vede, l'altro non vede, non vede quell'altro, succede, succede ragazzi, succede. Adesso andiamo a vedere come potrei evitare questo. Però provatela questo sistema innanzitutto perché vi impratichite su quello che poi servirà anche per l'altro sistema. Ma soprattutto vi posso assicurare che, guardate, 80 volte su 100 a me funziona senza problemi. Ok? Oltre a fare questo, per essere un po' più sicuri che anche con questa metodologia il tutto funzioni tranquillamente, dovete andare a attivare il supporto per i file SMB. Adesso ve lo faccio vedere. Come si fa a attivare questa situazione qui? Dobbiamo andare dentro, avete visto, adesso non lo vedete voi, ma c'è il famoso rettangolino bianco dove possiamo fare una ricerca, no? Lì voi dovrete scrivere funzionalità, proprio la parola funzionalità. Adesso io la vado a scrivere, funzionalità, vi apparirà la famosa finestra dove c'è una voce che si chiama attiva e disattiva funzionalità di Windows. Cercherò magari, se è possibile, di mettervi delle immagini così siete più sicuri. Voi dovrete fare questo passaggio e cliccare su attiva e disattiva funzionalità di Windows. Quando andrete a fare questo click vi apparirà, ragazzi, questa finestra. Andiamo a chiudere un po' di ambaradana, se no diventate matti. Ecco, vi apparirà questa finestra qua che, come vedete, appunto, attiva o disattiva delle funzionalità di Windows. Qua semplicemente dovete andare a fare uno scroll verso il basso, in questo modo, ok? E dovete andare a cercare, guardate, adesso ve lo faccio vedere, supporto per condivisione file SMB 1.0 CIFS, CIFS, ok? Qui dovrete cliccare sul più, eccolo qua, e vi si apre una finestra ulteriore. Verificate che i flag siano, come in questo caso, su Client SMB 1.0 CIFS e su Server SMB 1.0 CIFS. Perché questo è importante? Perché potrete avere dei computer che sono, per esempio, con Windows in modalità UEFI e dei vecchi computer, può capitare, che siano invece in modalità legacy. Nelle vecchie versioni di Windows, queste due opzioni andavano, come si posso dire, fleggate appositamente. Cioè, ci dovete andare perché normalmente non avevano l'opzione di essere già fleggate. Nell'ultima versione di Windows, invece, le ho trovate che sono già con il flag, ok? Ma voi, per sicurezza, andate e verificate che questi due flag, come vi ho fatto vedere, siano presenti. Perché nel caso abbiate questa situazione che vi ho appena detto, quindi, computer UEFI e computer legacy, questa è una delle possibilità per il quale la rete non funziona e quindi i computer non si vedono. Oltre a questo, ragazzi, un'altra cosettina, qui facciamo a nulla, è verificare che la pubblicazione delle risorse per individuazione sia attiva. Cosa vuol dire? Dovete semplicemente andare sull'icona, proprio lo start di Windows, ok ragazzi? Oppure fare Ctrl Alt Crunch. In pratica cosa dovete andare a fare? Dovete andare ad aprire la gestione attività, ok? Nel senso che la finestra, che ben conoscete, che si aprirà, è questa, ok ragazzi? Qui voi dovrete semplicemente andare sui servizi, ok? Una volta andati sui servizi, dobbiamo andare qua in descrizione e andare a cercare pubblicazione risorse per individuazione. Allora, guardate, io scendo, faccio uno scroll, adesso ve lo ingrandisco, eccolo qua, guardate, eccolo qua, allora, ve lo ingrandisco, pubblicazione risorse per individuazione. Già il nome stesso vi fa capire a che serve. Giustamente questo va, tra virgolette, a pubblicare la risorsa, i vari computer, per la pubblicazione, cioè per poter essere visti. Quindi questa, come vedete qua, vedete che io ho in esecuzione, dovete verificare che questo sia in esecuzione. Può capitare, anche nelle macchine leggermente più vecchie o in alcune situazioni, che questa opzione non sia attiva, quindi fate i passaggi che vi ho indicato e fate in modo che sia attiva. Nel caso non lo fosse, nei computer nuovi, semplicemente potete fare riavvia, arresta o nel caso non sia attiva, apparirà una finestrella dove semplicemente voi selezionerete, selezionerete, italiano, selezionerete che volete che questa opzione venga avviata in automatico e date l'ok, in modo che ogni volta che la macchina riparte, questa opzione si attivi da sola. Ok ragazzi? Queste sono le due opzioni che vi ho fatto vedere, che sono fondamentali, dunque andiamo a levare lo zoom, eccoci qua. Queste sono le due opzioni, passiamo all'altro schermo, che sono fondamentali per utilizzare questa metodologia che vi ho fatto appena vedere, cioè quella diciamo tra virgolette semplice, quindi verificatele. Adesso andiamo a vedere nel caso in cui questa opzione diventi troppo pesante, non funzioni troppe volte, non ci sia verso per voi di farla funzionare, come si va a configurare realmente una rete per poter essere proprio tranquilli? Dobbiamo spostare da un IP statico a un IP dinamico. Piccola gaff, piccola gaff, è esattamente vero il contrario, cioè non è da IP statico a IP dinamico, ma è esattamente l'opposto. Noi dobbiamo andare a configurare i nostri computer da IP dinamico, che è quello di default, cioè che viene come prima configurazione, a IP statico. Cosa sarebbe dire? IP non vuol dire altro che Internet Protocol Address, quindi è un indirizzo elettronico, quello che identifica univocabilmente il nostro computer. Quindi il nostro IP in questo caso normalmente è dinamico, non lo dobbiamo mettere statico, quindi vuol dire che noi avremo a ogni riaccensione sempre lo stesso indirizzo. Fate finta, è come se voi domani vi alzate, andate a lavorare, ritornate e invece di andare a casa vostra andate a dormire a casa del vostro vicino, dice oggi vi gira così. Non è proprio calzante l'esempio, ma tanto per farvi capire. È come se voi ogni giorno andate a casa di un vicino diverso perché oggi vi gira così. Quello è un indirizzo dinamico, il computer normalmente funziona in questo modo. Mettendo un indirizzo IP statico voi sapete che casa vostra è casa vostra e puntualmente andate là. Quindi il computer viene identificato come sempre lui, ok? Quindi noi dobbiamo mettere un IP statico. Come facciamo a mettere questo IP statico? Cioè far capire alla rete che noi abbiamo questi computer con questi indirizzi fissi. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a inserire questa informazione nel nostro router Allura. Come si entra nel router? Passiamo di qua e andiamo a digitare l'indirizzo del nostro modem. Che vuol dire? Normalmente per poter entrare nel modem, noi dobbiamo digitare l'indirizzo 192.168.1.1. Proprio come ve lo sto dicendo. Questo è un indirizzo normalmente standard, ma nel caso in cui non fosse questo, non ve lo accettasse, nel manuale del router che vi hanno dato solitamente c'è scritto qual è l'indirizzo e la modalità per scriverlo su Google per poter entrare nel modem. Addirittura volendo si può aprire il prompt, andate a vedere come si fa, tanto comunque poi ve lo faccio vedere, e do al prompt, quella finestrella nera che vi appare, digitare ipconfig. Vi appaiono delle informazioni dove vicino alla voce è scritto gateway predefinito, che altro non è che il nostro router, vicino ci sarà l'indirizzo del vostro router e semplicemente dovete scriverlo come adesso sto facendo io. Cosa andiamo a fare? Guardate ragazzi, adesso andiamo a metterci qua sulla riga e andiamo a scrivere quello che ci serve, quindi andremo a scrivere HTTP, vedete ragazzi? Due punti, già c'è ma io ve lo rifaccio, slash slash 192.168.1.1. Esattamente come lo sto facendo io. Lo vedete ragazzi? Non dobbiamo fare altro che dare invio. Una volta che diamo invio entriamo, state tranquilli, succederà anche a voi, nella schermata del nostro router, ok? Quindi del vostro router. Normalmente per entrare nel router, se non lo avete modificato voi con una password che è stata appunto riscritta, di solito è o admin, come vedete qua, vedete? Admin è sotto admin, o user user, quindi user user, sono diciamo quelle più comuni, ma anche in questo caso sul manuale del vostro router dovrebbe essere specificato. Ripeto, se avete già cambiato la password, sapete come fare, quindi vi sto facendo perdere tempo. In questo caso, io l'ho cambiata, andiamo a digitare la password e diamo invio. Cosa succede? Entreremo, qui mi chiede se voglio ancora rimodificare la password, entreremo nella finestra appunto del nostro router. Bene, quello che dovete andare a fare è cercare questa voce, rete locale. Adesso considerate che io sto utilizzando il router questo della team, lo vedete per la fibra, ma che poi sia D-Link, che poi sia Fritzbox, che sia, qualsiasi router sia, qualsiasi provider internet abbiate, magari cambia, invece di rete locale, accesso alla vostra rete, oppure rete casalinga, adesso sto tirando così a braccia, ma magari cambia la descrizione, ma il concetto è che voi dovete trovare appunto un qualcosa che identifichi la rete locale. Quando l'avete trovata, semplicemente dovete fare un click ed entrerete dentro la finestra della rete locale. Eccola qua, vedete? Guardate, qui ci sarà un indirizzo che è appunto quello del dispositivo locale, quindi il vostro PC per capirci, e ci sarà qua, vedete, indirizzi P statici, ok? Che la finestra l'abbiate leggermente diversa, comunque il vostro router vi permetterà di inserire degli indirizzi P statici. Che cosa vuol dire? Voi dovrete dare un indirizzo statico per questo computer che sto utilizzando in questo momento, per questo computer che ho qua, per magari il computer di vostro figlio o di vostra figlia, quindi voi dovrete andare a dare un indirizzo statico per ogni computer che avete collegato alla vostra rete. Questo lo dovete fare per ogni computer, questo procedimento che vi sto facendo vedere, per ogni computer che avete nella rete, perché appunto io adesso su questa macchina, ok? Poi vi faccio vedere come fare, andremo a configurare l'indirizzo P per ogni macchina, ma al momento nel router abbiamo due computer, tre computer, noi dobbiamo mettere in questo momento gli indirizzi di tutte e tre i computer. Come si fa ragazzi? Guardate, vedete che io qua ho praticamente la possibilità, vedete c'è la voce, aggiungi un indirizzo IP statico, che la voce l'abbiate diversa, state sicuri che il concetto è quello, vi permetterà un bottone di aggiungere un IP statico. Quando andrete ad aggiungere l'IP statico, la prima cosa che dovete fare quando entrate in questa finezza è verificare che le impostazioni DHCP siano in on, lo vedete? Io ce l'ho in on, lo vedete ragazzi? Il DHCP altro non è che il Dynamic Host Configuration Protocol, praticamente è come se fosse una sorta di agenda dove si preoccupa di verificare tutti gli indirizzi e eventualmente distribuirli, ve l'ho detta proprio in maniera molto castronesca, molto semplice, però non vi preoccupate, ci pensa lui, l'importante è che voi l'abbiate in on. Una volta che il DHCP è in on, voi dovete andare a inserire appunto degli indirizzi IP statici. Come potete vedere, io già l'ho fatto, io ho il computer che sto utilizzando che si chiama Alex Photo PC, vedete? E il computer che ho qui accanto che si chiama Alex Asus PC, ok? Lui è molto importante questo, ha bisogno del MAC address, cioè l'indirizzo MAC, che non ha niente a che vedere con i computer MAC ragazzi. MAC vuol dire Media Access Protocol, ok? Come possiamo dire, è una sorta di appunto protocollo che identifica univocamente nella maniera più assoluta la vostra scheda, la vostra rete, la vostra scheda di rete, il vostro computer. Non ce n'è un altro al mondo, quindi lui in questo caso gli dovete assolutamente mettere il MAC address perché altrimenti questo procedimento non funziona e vale per tutti i router che ci sono, ok? Per quanto riguarda l'IP, voi avrete un range di IP, di internet protocol address, che vanno da 0 a 255. Come potete immaginare, ve lo vedete da qua, guardate, il primo è stato preso proprio dal gateway, cioè dal router, perché 192.161.1.1, lo vedete ragazzi? L'ultimo 1 identifica quel range da 0 255. Quindi in questo caso io dovrò mettere, per il mio computer che sto utilizzando in questo momento, per esempio, 168.1.2, ok? E per quello punto 3 finale, fino ad andare a mettere in rete 254 macchine. Ci siete? Perché la prima se l'è beccata il gateway. Questo per farvi capire il concetto. Se ritorniamo giù ragazzi, eccoci qua, io li ho già inseriti, ma la domanda nasce spontanea. Come ottengo l'IP, scusate, il MAC address? Allora, il MAC address, leviamo innanzitutto lo zoom, lo otteniamo semplicemente riandando sulla iconcina in bassa a destra del computerino o del wifi che abbiamo appunto in bassa a destra. Cliccando col destro apri connessione rete e internet, ci si apre la solita finestra. Qui non dobbiamo fare altro che andare su centro connessione di rete e condivisione, questo qua ragazzi, sempre il solito, eccolo qua. Una volta che si apre la finestra del pannello di controllo, vedete che qui avrete scritto anche voi ethernet nel caso in cui abbiate il cavo o wifi nel caso in cui siete collegati in wifi. Non importa, comunque sia la dicitura, voi ci cliccherete sopra. Cliccando qua sopra vi si apre, aspettate che ve la porto di qua, ve la porto, eccola qua, vi si apre questa finestra. Stato di ethernet. Vedete? Non dovete fare altro che andare a cliccare su dettagli. Cliccando su dettagli, voi dovete andare a prendere nota di questo che vedete indirizzo fisico. Vedete? 20CF30 eccetera eccetera eccetera. Indirizzo fisico, questo è uguale per tutti i computer ragazzi, quindi anche per voi. Prendete nota e segnatevelo perché questo è il MAC address, cioè l'indirizzo fisico, che è quello che vi serve. Adesso vi faccio vedere perché. Nel caso in cui, leviamo questo, non vi vada di... vi sentite fichi ragazzi, vi sentite belli, tosti e non vogliate ottenerlo in questo modo, potete tranquillamente andare a... ecco che lo apro, aprire il prompt dei comandi tramite il menu, basta che digitate sul campo di ricerca prompt e vi si apre la schermata del prompt. Lo vedete ragazzi? È questa nera. Qui non dobbiamo fare altro che andare a digitare ipconfig, ve l'ho detto che ve l'avrei fatto vedere, slash all, quindi all, ok? ipconfig slash all, eccolo qua. Diamo invio e vi appare una carlata di dati che non avete idea, ma non vi preoccupate, semplicemente voi andrete a cercare la scheda Ethernet, vedete che per esempio io scheda Ethernet 2 mi dice supporto disconnesso, aspettate che mi sposto un po' di qua, se no poi non leggete, eccolo, supporto disconnesso, quindi sono sicuro che la scheda Ethernet 2 a me non mi riguarda, mentre invece scheda Ethernet che è la prima, che è quella connessa, a me mi dice appunto Omnet, Telecom Italia, eccetera eccetera, che è quello. Se andate a guardare, qui avete appunto indirizzo fisico, che è lo stesso di quello che vi ho fatto vedere prima, quindi anche in questo modo voi potete ottenere l'indirizzo fisico. Vi ho fatto vedere tutti i modi, ragazzi, così dovesse capitare che un amico fate proprio una di quelle figure paraponsipiero, ok? Una volta che abbiamo ottenuto il MAC address abbiamo tutti i dati che ci servono. Cosa dobbiamo andare a fare? Semplicemente, nel caso vedete, guardate, voglio aggiungere un altro indirizzo epistatico, fate finta, clicco, a voi vi apparirà la finestra più o meno la stessa, sarà bianco, vedete, il primo eccolo qua, il primo campo sarà bianco, dovete mettere il nome, guardate c'è l'esempio sopra, ve l'ho fatto apposta, Alex Photo PC, voi il vostro computer l'avete chiamato, che ne so, Francesco, qui metterete Francesco, o quello che volete, non è importante, però è importante che identificate il computer al quale vi state collegando, ok? Qua metterete il MAC address della macchina Primo PC, il MAC address ve lo siete segnato, quindi sarà il computer, che ne so, Francesco 1, poi vi siete segnati il secondo MAC address di quest'altro computer, e quindi creerete un altro epistatico col MAC address di quest'altro computer, ok? E via dicendo, quindi che farete? Qui il nome, qui il MAC address, e qui semplicemente, vedete che io ho messo 1962168.1.50, non è importante, non devo fare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, delle volte gli IP vengono impegnati da altri programmi, quindi è meglio andare su IP leggermente più bassi o alti, dipende come li volete intendere, io mi sono andato su IP numero 50, la prima macchina che è Alex Photo PC, ho fatto 1962168.1.50, l'altra macchina, eccola qua, che è questa ragazzi, per capirci, questa che ho qui accanto, ho fatto 1962168.1.51, poi farò 52 per quello di mia figlia, 53 per un altro computer di mia moglie, magari, e via dicendo, ok? Una volta fatto questo, in questo caso io posso o cancellare o modificare, voi avrete invece un bottone, qualsiasi router che state utilizzando, che dice aggiungi, e una volta aggiunti vi appariranno come in questo momento, adesso io qua faccio esc, faccio chiudi, aspettate che lo riapro perché se no vi incasino, perché io eccolo come vi apparirà. Una volta fatto, aggiunti gli indirizzi IP statici, logicamente questi saranno disponibili in questo modo. Il router a questo punto è predisposto per accettare gli IP statici che noi andremo a inserire su ognuno dei nostri computer. Ok ragazzi? Ci siete fino a qua? Più chiaro e più semplice di così, vi assicuro che è proprio impossibile. Andiamo avanti. Quindi, una volta predisposto il router, bello quindi, così è, mi vedo proprio così, abbiamo predisposto il router per poter accettare i nostri indirizzi statici sui computer che andremo appunto a gestire sulla rete, dobbiamo andare a mettere questi indirizzi statici sui nostri computer, perché il modem è pronto per accettare questi indirizzi, ma se noi non inseriamo sui nostri computer, il router quando parte dice, sì c'è stanno questi indirizzi, ma le case sono vuote, io non vedo nessuno, ci siete? Quindi noi su ogni computer dobbiamo andare a mettere il corrispondente indirizzo IP statico per far sì che il router, quando si collega, quando accendere il computer, lo riconosca. Noi al momento sui computer non abbiamo un indirizzo IP statico, bensì dinamico, quindi il router non lo riconosce, lo gestisce solo come dinamico. Quindi andiamo a predisporre il computer, ogni computer della rete, quindi il procedimento andrà fatto per ogni computer della rete, quindi se avete 3 computer, su 3 computer, più chiaro di così non si può, ok? Come si va a fare questo procedimento? Guardate, passiamo di qua, ritorniamo semplicemente sulla famosa icona internet wireless o internet con l'icona del computerino, se avete il computer collegato con il cavo di rete, cliccate, oddio non l'avete, cliccate con il destro, fate sempre impostazioni di rete e internet, si apre la consueta finestra, riandiamo sempre su centro connessione di rete e condivisione, eccolo qua, a questo punto però dobbiamo andare in modifica impostazioni scheda, scheda intende proprio scheda di rete, ok? Clicchiamo su modifica impostazioni scheda, eccoci qua, e qui dovremo andare a identificare quale è la scheda di rete che ci interessa. Per quanto mi riguarda è molto semplice, lo vedrete anche voi, io ho collegato solo una porta di rete veramente, l'altra non è collegata, me la dà crociata di rosso, vedete? L'altra è per la macchina virtuale che uso con VirtualBox, quindi mi rimane questa, la prima scheda di rete. Qua non devo fare altro che cliccare con il tasto destro, andare su proprietà, guardate ragazzi, e si apre la finestra, quella l'avrete vista molto spesso, quella delle proprietà di Ethernet, lo vedete? Qua dobbiamo andare a cercare, eccolo qui ragazzi, protocollo internet versione 4, TCP slash IPv4, questa è la voce che ci interessa, quindi faremo un clic col sinistro per selezionarla e andremo su proprietà. A questo punto andiamo ad agire sui valori, appunto, di rete, guardate, sui valori di rete che riguardano una nostra scheda di rete. Guardate, questo è importante, vedete che qui ottiene automaticamente un indirizzo IP e ottiene un indirizzo server DNS automaticamente? DNS sono i Demand 9 System, nel canale trovate un software che ho messo, appunto, che è DNS Jumper, che vi permette di cambiarle in automatico, non solo, ma scegliere anche i DNS più veloci. Avere un DNS vuol dire poter accedere a certi siti che in alcuni casi sono bloccati, quindi qui adesso vi faccio vedere qual è il DNS di Google, per esempio, bypassando tramite il DNS di Google voi potete avere accesso in certe locazioni di internet che altrimenti con un DNS standard, magari quello preimpostato, non potreste, ok? Non andiamo troppo oltre, sennò veramente qui facciamo il mese insieme ragazzi, tanto è quasi finito ragazzi, coraggio, manca pochissimo. Allora, noi qui dobbiamo andare a cambiare, ottiene automaticamente un indirizzo IP, ottiene indirizzo server DNS automaticamente con non automaticamente, noi vogliamo un indirizzo IP statico. Come facciamo? Semplicemente facciamo, utilizza il seguente indirizzo IP, glielo diamo noi l'indirizzo IP. Cosa dobbiamo fare? Indirizzo IP. In questo caso ragazzi è qui che dovreste mettere, guardate, 192.168.1, nel mio caso su questo computer io ho messo 50, vedete? È qua che l'ho messo, dove dice indirizzo IP. Io qui sto dicendo al mio computer, questo è il tuo indirizzo, router, vedi che puoi fare, il mio computer è 192.168.1.50, ok? Ci siete? Quindi questo è l'indirizzo che scegliete per il vostro computer. 50, ripete, un range da 0 a 255, levate il primo che se lo prende il gateway, cioè il vostro router, quindi avete 254 possibilità. Io qui ho scelto la 50, per il motivo che vi ho detto prima, è meglio andare un po' verso la metà per sicurezza, alcuni programmi se li zottano alcuni indirizzi, ok? Una volta fatto questo, basta che ci spostiamo sulla riga inferiore, diamo un clic e automaticamente il subnet mask viene compilato automaticamente. I 255, 255, 255, 0, vi fa capire appunto il range da 0 a 255. Non lo dovete toccare, viene compilato in automatico, appena ho cliccato avete visto? È apparso. Qua nel gateway predefinito, ve l'ho detto due secondi fa, il gateway altro non è che il vostro router, ok? Quindi qui dovrete mettere, se avete studiato, se mi avete ascoltato, non vi sento, l'indirizzo del vostro router, quindi 192.168.1.1, normalmente è questo. E avete compilato l'indirizzo della prima parte. Per il DNS, la cosa più semplice è, guardate, 8, 8, 8, 8, poi sotto, 8, basta spostarsi con un clic ragazzi, cliccare e mettere il numero, perché lui se no vedete me ne accetta altri, però quindi non fate tab perché altrimenti lui non vi si sposta sull'altro, dovreste fare punto, dovreste fare 8 sulla tastiera, punto e allora lui si sposta al campo seguente. Però io adesso lo faccio con il mouse, quindi 8, 8, e in questo caso 4, 4, ok? Questo è l'indirizzo, il DNS, il Demain Name System di Google, quindi 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4. Fatto questo ragazzi, avete configurato il vostro computer per avere un indirizzo IP statico, non è così complicato come sembra, vero o no? Non dovete fare altro che fare ok, io logicamente l'ho già fatto, in questo caso farò annulla, quindi andiamo a fare annulla, richiudiamo il tutto, qui logicamente voi darete, aspettate che qua se no lo zoom non vi fa capire, darete ok, io invece in questo caso faccio annulla, e abbiamo configurato il primo, il primo computer per essere visto dall'indirizzo che abbiamo messo pure sul router, logicamente dovrete fare lo stesso per il secondo computer, per il terzo o per il quarto, se ne avete, quanti ne avete, ok? Questa è un'operazione che va fatta su tutti i computer. Ragazzi avete creato una rete con indirizzi IP statico, al 99,99%, mi tengo sempre quello 0,1 per scaramanzia, l'informatica non si sa mai, come diciamo anche ai nostri clienti, perché tutto può accadere, ma non è questo il caso ragazzi, vi ho detto tutto, voi dovreste avere una rete che a ogni riaccensione automaticamente, questo computer vede questo computer, questo vede quest'altro, questo vede quello e via dicendo, perché avete creato una rete ragazzi peer to peer, cioè punto a punto, non c'è un server, non c'è un computer che li controlla tutti, come nel signore degli anelli, uno li controllerà tutti, no, ogni computer può fare da server, quindi da computer principale, o da client, cioè computer collegato, indipendentemente, ok? In questo caso tutto dovrebbe funzionare, ricordatevi molto molto importante ragazzi, che una volta che avete fatto questo procedimento dovete riavviare assolutamente il computer, sia questo, sia quello che fare dopo, sia che la macchina fa un reset e ripristina lo stato della vostra rete, e quindi del vostro router, in funzione dell'indirizzo nuovo statico e pistatico che avete messo, ok ragazzi? Una volta fatto questo procedimento avete creato la vostra rete, nel caso vi funzionasse con la prima ipotesi, quella più semplice che vi ho fatto vedere, utilizzate tranquillamente, nel caso vogliate fare le cose come veramente devono essere fatte per essere più tranquilli, non perché sia necessario farla in questo modo, diciamo che per costruire le reti di un certo livello il procedimento che vi ho indicato è praticamente l'unico, ok? Però se volete essere tranquilli, il secondo procedimento dell'IPI statico, quello è il più sicuro, è il più comodo. Ricordatevi sempre che in alcuni casi è importante inserire la password, quindi andate nell'account e mettete una password, adesso vi faccio vedere perché, guardate, vi ho parlato di rete, quindi siete predisposti a questo punto, come lo utilizzo io, non mi serve utilizzarlo in un altro modo, per effettuare una grossa mole di trasferimento dati, senza più pennetta, senza più il disco esterno, ma direttamente da computer al computer, adesso andiamo subito a vedere, vi do un esempio velocissimo, ok? Ma nel caso in cui voi per esempio, cosa che la rete permette, vogliate condividere dei file e delle cartelle, cioè quello che vi ho detto prima, io lavoro su questo computer che sto utilizzando in questo momento, ma il file in realtà sta su quest'altro computer e quella è una condivisione, quindi io non mi sono spostato il file da qui a qui, semplicemente come trasferimento e poi lo modifico, no, io lo sto modificando dal mio computer un file che sta sull'altro computer e mentre io lo modifico da qua, il file si trasforma anche qua, sull'altro computer, questa è una condivisione, come si ottiene la condivisione? Una volta creata e costituita la rete, come abbiamo fatto fino a questo preciso momento, semplicemente fate finta, disco locale C, perché in questo caso andiamo su, eccoci qua, sull'altro schermata e andiamo su disco locale C, eccolo qua, lo vedete? Qui non dovete fare altro che cliccare con il destro e cliccare su proprietà, una volta fatto questo, mettiamola qua al centro così la vedete bene, eccola qua, vedete? Guardate, appare qui in alto su una delle linguette, chiamiamole, la scritta condivisione, nemmeno a farla apposta, proprio qua dovete cliccare, guardate, vedete che qui c'è condivisione avanzata? Qui mi dice C, due punti non condiviso, questo è uno dei tanti esempi, ecco perché ve l'ho fatto vedere e ve l'ho detto, dove non avendo inserito una password, perché come vi ho fatto vedere all'inizio, io lo sto gestendo senza password, voglio che l'accesso sia automatico senza bisogno di richiedere le password, però questa è una delle limitazioni che vi stavo facendo, che vi stavo accennando, vedete che non posso cliccare il pulsante condividi, perché la macchina non si è predisposta per condividere i miei hard disk, 99 volte su 100, per non dire 99,99 volte su 100, se mettete la password questa funzione vi si abilita, quindi potete condividere, facciamo finta che io potessi in questo momento condividere il mio C, io posso anche scegliere una sola cartella di C, o anche un solo file di una cartella di C, fate attenzione, non devo necessariamente condividere tutto C, adesso io non potendo entrare, non mi fa vedere, ma vi si apre nella classica struttura directory, ok, ad albero, dove voi andrete a selezionare la cartella o tutto l'hard disk che volete condividere fino al singolo file che volete condividere, chiaro no? Ok? Voi una volta che avrete condiviso questa cartella o l'hard disk intero, dovete andare su condivisione avanzata, eccola qua ragazzi, vedete? Se clicco condivisione avanzata, qui lui mi dà, condividi la cartella? Sì, certo che sì, io voglio condividere la cartella che lui può intendere anche come l'intero C due punti, cioè l'intero hard disk, ma io in questo caso clicco su condividi la cartella, vedete lui mi dà C, non mi dà la possibilità di scegliere, come vi ho detto, un albero, perché logicamente C per quanto lo riguarda il mio PC non me lo sta facendo condividere, sto fedentone, dovevo mettere la password ragazzi, fatto questo e quindi abilitato il discorso della cartella che volete condividere, fate molta 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 attenzione di andare a cliccare su autorizzazioni, lo vedete? Eccolo qua, una volta che clicco su autorizzazioni, vi conviene se sono le vostre macchine, il vostro PC, i vostri computer casalini, dare un flag a tutte e tre questi quadretti, quindi controllo completo, quindi modifica e lettura, in questo caso vedete che ho solo lettura, se io non do le altre, almeno modifica dovrei dare, almeno, se do controllo completo, automaticamente capite da voi, mi si abilita sia la modifica sia la lettura, ma se io ho il flag solo su lettura, logicamente quando andrò a prendere quel file, sì me lo farà vedere, ma non me lo farà modificare, quindi è importante che passate qui per le autorizzazioni e date questi flag, questi appunto visti che devono essere flaggati, perché altrimenti è inutile che fate questo passaggio, giusto? Chiudiamo tutto qua, facciamo annulla, logicamente per quanto mi riguarda non mi serve, andiamo a levare lo zoom, adesso ragazzi, per finire, finalmente abbiamo concluso, che faticaccia ragazzi, per dirvela nella maniera semplice, adesso vabbè, intanto chiudiamo, poi ve lo dico, allora, vedete che qui in basso ci sta la consueta voce rete, guardate che cosa succede, se adesso io, avendo fatto tutti i passaggi che vi ho detto, clicco su rete, guardate, mi si apre, la possibilità, e infatti vado a vedere Alex Asus PC, Alex Photo PC, Lalla PC, che è uno degli altri computer che ho collegato dentro la rete casalinga, ok? Ma Alex Photo PC e Alex Asus PC, ve lo dice la parola stessa, sono quelli che io ho inserito appunto nel router e che sono andato a configurare con gli IP statici. A questo punto, io qua, su questo computer, sto vedendo sia il mio computer, Alex Photo PC, sia quest'altro computer, Alex Asus PC. Se io adesso l'ho acceso, vado ad accendere, ad aprire questo, e vado ragazzi ad aprire la directory, che voi non vedete, ma immagino che un po' vedete che la sto aprendo, e vado anche in questo caso su rete, io avrò la stessa identica schermata che ho su questo PC. PC. Quindi, Alex Asus PC, Alex Photo PC e Lalla PC. Ogni computer vede l'altro. Rete peer-to-peer. Guardate che cosa ho ottenuto. La facciamo velocissima. Se io da qua, da questo computer, quindi questo che sto toccando in questo momento, voglio per esempio trasferire dei file su quest'altro mio computer. Non guardate i due file che faccio adesso per velocità. fate finta che sto trasferendo 100... no, 100 sono poche. Un terabyte di roba. Ragazzi, un terabyte, che poi prima ho sbagliato, ho detto una pendrive da 128, ma c'è anche quella da 256, c'è anche quelle da 512, usciranno tutte. Ma al momento devo trasferire un terabyte di roba. Ragazzi, è un botto di roba, ok? Mi conviene farlo tramite rete. In questo caso facciamo solo l'esempio. Guardate che cosa faccio. Io adesso ve lo dico perché voi questo computer non lo vedete, state vendo solo che io ci opero sopra. Però, fate finta che prendo dei file dentro la mia cartella immagini, prenderò immagini salvate, poi prenderò la cartella rullino e prenderò un'immagine di uno sfondo che si chiama Asus ROG. Io li ho selezionati, faccio copia e vado dentro rete, questa schermata che voi in questo momento state vedendo. Cosa faccio io qui da rete? Andrò dentro il computer Alex Photo PC che voi state vedendo adesso a schermo, vedete? Io andrò da qua, da questo computer, andrò a cliccare due volte dentro Alex Photo PC. Ve lo faccio vedere anche qua così vedete il passaggio che sto facendo. Quindi clicco due volte qua. Mi si apre la cartella user, sia qui sia qua. Io entro dentro user. Dentro user, se io clicco, qui avrò Alex Photo, avrò default. Quella che vi interessa per i trasferimenti è, se non avete condiviso le cartelle, sempre e solo la cartella con la voce pubblica. È questa che devo utilizzare, la cartella pubblica. Io adesso entro dentro la cartella pubblica con doppio clic, faccio lo stesso qua, pubblica. Guardate che sto facendo, vedete? E mi vado a posizionare qua dentro download pubblici. Lo stesso faccio su questo. Mi posiziono su download pubblici. Come vedete adesso io ho due cartelle vuote download pubblici, sia sul mio computer, sia su quest'altro. Ma se io adesso i file che ho appena copiati li vado da qui, ragazzi, a incollare. Guardate, faccio incolla. Guardate che succede, ragazzi. Tacchete! Mi è apparso sul mio computer quello che vi ho detto. Cartella immagini salvate, cartella rullino, cartella Asus Rock. Ho semplicemente trasferito, senza fare nulla, tramite il mio router, tutti i miei file su quest'altro computer. Parabonsi, ponzi, pero. Andiamo ai saluti. Che faticaccia, che faticaccia una notizia idea. Ma non tanto per il video in sé, quanto il... mi rendo conto che è difficile da capire, quanto riportare in maniera che abbia una certa logica, una certa, come posso dire, fluidità e passaggio consecutivo in maniera semplice per farvelo capire. Non avete idea che faticaccia, perché queste sono cose che noi e tutti quelli come noi, i tecnici e le persone che stanno nel campo, fanno in automatico. Ma non avete idea cosa vuol dire ripetere queste cose riportandole in maniera che siano comprensibili nella maniera più semplice possibile. Poi ragazzi, io ce l'ho messa tutta, veramente, guardate, non avete idea che per fare questo video, proprio per, come si dice, gestirlo, crearlo, che faticaccia. Speriamo che almeno sia stato utile, che abbia ottenuto quello che volevo, cioè mettervi in condizione veramente di capirla e strutturarla una rete. L'unica cosa, l'unico, come posso dire, risponso me lo potete dare voi. Cioè, siate gentili, scrivetemelo nei commenti se siete riusciti a farlo, ragazzi, perché veramente mi dareste una soddisfazione fuori, assoluta, assoluta, veramente, perché è stato veramente un bello sforzo. Speriamo che sia servito a qualcosa e che non vi abbia appunto scassato le quallare, come dicono a Napoli, ragazzi. Speriamo che sia stato utile. D'altronde, questo era l'unico modo, non ho potuto trovare un modo più semplice. Ragazzi, grazie, veramente grazie, siete unici. Commenti, like, arrivano una marea di proposte, di idee, siete grandi, ragazzi, non c'è altro modo di definirlo. Quindi, aspetti i vostri commenti, fatemi sapere se vi è stato utile. Lo dico a tutti, solita iscrizione che non costa nulla, like, sempre se vi siamo stati utili e vi siamo piaciuti, e il commento che proprio è la cosa che preferiamo e, come sapete, rispondiamo a tutti. Ragazzi, buona serata, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.